Per rispondere alla crisi bradisismica in atto, oltre al potenziamento delle attività di monitoraggio del vulcano, sono state avviate specificazioni di prevenzione. A tal fine, il Decreto-Legge 140 del 12 ottobre 2023 ha previsto alcune misure urgenti. Un piano speditivo di emergenza dedicato al bradisismo, un piano di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, un piano di comunicazione alla popolazione, la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali ed un potenziamento della risposta operativa locale di protezione civile. Queste attività sono state realizzate in collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, la città metropolitana di Napoli, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e diversi centri di competenza operanti nel settore della pericolosità e dell'ingegneria sismica. Concorrono inoltre all'attuazione delle misure relative alla vulnerabilità dell'edilizia pubblica e privata ulteriori soggetti. Cominciamo a vedere a grandi linee cosa prevede il piano speditivo di emergenza per il bradisismo. Innanzitutto, il piano individua una zona di intervento e al suo interno una più piccola zona di intervento ristretta. Entrambe le zone ricadono a loro volta all'interno della zona rossa del piano per il rischio vulcanico, ma non hanno nulla a che vedere con essa. Queste zone sono infatti individuate sulla base dell'entità delle deformazioni del suolo e della sismicità registrata negli ultimi anni. In particolare, la zona di intervento è stata definita sulla base della localizzazione degli epicentri dei terremoti con magnitudo superiore o uguale a 2, occorsi dal 1983 e dei punti dove il sollevamento del suolo rispetto al 2015 è stato uguale o superiore a 10 cm. Al suo interno è stata poi individuata una zona di intervento ristretta, dove il sollevamento del suolo ha invece raggiunto o superato i 30 cm, sempre rispetto al 2015. Quest'ultima zona è quella dove potrebbero verificarsi in modo diffuso i maggiori effetti se il bradisismo dovesse intensificarsi. La zona di intervento include parte dei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, quest'ultimo relativamente al quartiere di Bagnoli e porzione delle municipalità di Soccavo, Pianura e Posillipo, e comprende una popolazione complessiva di quasi 85.000 persone. Invece, la zona di intervento ristretta include parte dei comuni di Pozzuoli e Napoli, quest'ultimo relativamente al quartiere di Bagnoli, e comprende oltre 33.000 persone. A differenza della pianificazione per il rischio vulcanico, il piano speditivo per il bradisismo è indipendente dai livelli di allerta. In questo caso, infatti, la risposta di protezione civile si basa su tre diversi scenari operativi con severità crescente, definiti sulla base di diversi impatti che il fenomeno può produrre su edifici e infrastrutture. Nello scenario più severo, le deformazioni hanno un'accelerazione importante e i terremoti aumentano in frequenza di accadimento in magnitudo, provocando danni strutturali significativi agli edifici e alle infrastrutture, e criticità tali da non poter più garantire in modo efficace i servizi essenziali per i cittadini all'interno della zona di intervento ristretta. Solo al verificarsi di questo scenario è prevista l'eventualità di allontanamento parziale o totale della popolazione da tale zona. Naturalmente, questo eventuale allontanamento è del tutto indipendente da quello previsto dal piano per il rischio vulcanico nell'eventualità di un'eruzione imminente. Come dicevamo, il Decreto Legge 140 ha previsto poi uno specifico piano relativo all'analisi della vulnerabilità delle zone edificate, le cui misure sono estese a tutta la zona di intervento. In particolare, il piano prevede un'analisi della vulnerabilità sismica degli edifici privati per stimarne i fabbisogni finanziari ed individuare le priorità per successivi interventi di riqualificazione sismica. Sono anche previste azioni sul patrimonio edilizio pubblico che prevedono, oltre all'analisi della vulnerabilità, anche un primo piano di interventi di riqualificazione sismica. Inoltre, il piano prevede anche lo svolgimento di studi di microzonazione sismica per individuare a livello locale le zone a maggiore pericolosità e il potenziamento del monitoraggio sismico del territorio e delle strutture. Tra le misure urgenti, il Decreto Legge 140 prevede anche la realizzazione di un piano di comunicazione alla popolazione con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei rischi, la pianificazione di protezione civile e comportamenti corretti da adottare nelle aree interessate con un'attenzione particolare alle persone con disabilità. Il piano di comunicazione prevede la realizzazione di campagne di comunicazione, l'armonizzazione dei siti web istituzionali, lo sviluppo di una app regionale per il cittadino, l'organizzazione di incontri periodici con la popolazione e di iniziative rivolte ad istituti scolastici e alle università, la programmazione di iniziative culturali, il supporto agli sportelli informativi dei comuni interessati, l'organizzazione di open day delle strutture pubbliche, la realizzazione di attività di formazione rivolte a giornalisti, volontari e dirigenti scolastici e dipendenti pubblici e la progettazione, realizzazione e installazione di cartelli multilingua. Anche il fumetto La Virgola, dedicato agli studenti delle scuole dei Campi Flegrei e questa serie di video, rientrano tra le attività del piano di comunicazione. Una specifica misura prevede inoltre che la Regione Campania, in raccordo con i comuni interessati, coordini le attività volte ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e all'aggiornamento della pianificazione per il bradisismo a livello locale. Infine, è previsto un potenziamento della risposta operativa locale di protezione civile che prevede il reclutamento da parte dei comuni di unità di personale e ulteriori misure per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile e quindi, da ultimo, migliorare la resilienza della comunità locale. Ricordiamoci, in ogni caso, che per ogni ulteriore informazione potrete consultare i siti web del Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Campania e dei comuni interessati. Grazie a tutti.